Buona giornata carissimi amici. Oggi, in questa domenica 12 febbraio, vi presento un'altra località molto bella. Ci troviamo davanti alla chiesa di Ciseris, questa frazione di Tarcento. E sono venuto oggi proprio per celebrare la Santa Messa durante questa mattinata. Vedete c'è un sole splendido, un cielo azzurro. Quindi davvero una domenica speciale. Ringraziamo il Signore per il dono di questa meraviglia. Ed è bella questa idea. Hanno scritto così con delle pietre sotto questo grande albero il nome di questa frazione, Ciseris. E siamo proprio davanti alla chiesa, continuando sulla strada. Si arriva Pradielis e poi, sempre più in alto, l'alta valle del Torre. Ecco qui allora ci sono persone che stanno arrivando proprio per la celebrazione della Santa Messa. Io approfitto per i minuti che abbiamo a disposizione per farvi vedere queste splendide montagne in in questa giornata davvero con un sole limpido e con un cielo terzo. E qui proprio davanti alla chiesa troviamo questa grande statua, la statua di San Carlo Borromeo. E qui appunto in quest'angolo proprio della chiesa, questo grande ulivo, questa pianta davvero splendida. E poi in alto il campanile. bella anche l'idea di mettere qui proprio fianco della chiesa questa rosa dei venti. la tramontana, il nord, il maestrale, l'ovest, il libeccio e lo scirocco, la rosa dei venti. Bellissimo anche questo spazio per l'infanzia, per i bambini che qui trovano il modo di rimanere all'aria aperta, di giocare, accompagnati sempre dalle loro educatrici, educatori. Abbiamo visto appunto la chiesa, ciò che sta intorno, ora cercheremo anche di entrare per vedere l'interno di questa bella chiesa. E siamo davvero fortunati perché ha ripreso il suono delle campane che invitano i fedeli a partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia in questa domenica sesta del tempo ordinario, il 12 di febbraio. E mentre continua il suono delle campane, le persone che stanno arrivando, vediamo anche queste montagne. Si vede in alto il campanile di Bradielis e poi tutto il resto di queste splendide montagne, con questo sole limpido in questa giornata del mese di febbraio. Ed ecco alcuni fedeli che stanno entrando per la Santa Messa. Ecco un saluto a voi, buona domenica, è la prima volta che io vengo a celebrare. Ed è, di fatto ho immaginato, è venuto tranquillo. Sì, 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 molto bene, sì, sì, grazie. E se da Gemona non è... E buono, ma se uno non conosce Ciseris è un menino... No, no, ma sono sei anni che sono ormai qui nella zona. Da Gemona ogni giorno andiamo a Tricesimo, no? Per il santuario della Madonna Missionaria. Ma lì magari va giù per la statale, mentre a Tacceto deve entrare. Certo, certo. Ci possiamo muovere? Sì, 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 buona domenica allora. Buona Santa Messa. Arrivederci, arrivederci. Ed ecco l'interno della Chiesa, appunto, di Ciseris. Salutiamo le persone e naturalmente ci prepariamo a celebrare la Santa Messa. Buona giornata, buona domenica a tutti voi. Grazie, grazie.